Un bonus da 1000 euro per i lavoratori delle case di riposo impegnati nell'emergenza pandemica. In un frangente di innegabili difficoltà, soprattutto per chi opera all'interno dell'ASP1, arriva una boccata d'ossigeno grazie all'emendamento votato in maniera unanime dal Consiglio regionale presentato da Dino Pepe. Sul tavolo, in ogni caso, restano alcune situazioni irrisolte, come il destino della casa di riposo di Sant'Omero al momento chiusa. Sotto questo aspetto, grazie all'intercessione con il commissario straordinario ricostruzione Giovanni Legnini, si sta cercando di individuare una strada utile per ristrutturare l'intero stabile della cittadina vibratiana. Avevamo concesso un contributo, un indendizzo straordinario ai lavoratori delle ASL e quindi del settore sanitario. Era giusto concedere un indendizzo per il lavoro svolto durante la pandemia anche chi opera all'interno delle case di riposo. Un emendamento a seguito di una mia risoluzione presentata in Consiglio regionale e accolta da tutte le forze politiche. Ieri, insieme al collega Feb abbiamo firmato un emendamento di un milione di euro che concede un indendizzo di almeno 1000 euro a tutti i lavoratori delle case di riposo. Un'opportunità ma anche un ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi durante questa fase pandemica. Il servizio agli anziani è un servizio assolutamente necessario in questa situazione difficile. Chiudere la casa di riposo di Sant'Omero è stato un grande errore della giunta Marsilio. Noi ci batteremo e lo stiamo facendo anche grazie all'aiuto del commissario Legnini affinché la struttura di Sant'Omero venga ristrutturata e quindi riportata all'attività ordinario per rendere un servizio su questo territorio insieme a Nereto, insieme a Civitelle e insieme a Teramo. Purtroppo negli ultimi mesi sono state enormi difficoltà. La regione Abruzzo in particolar modo la giunta Marsilio aveva promesso 3 milioni di euro a dicembre ma purtroppo dopo 7 mesi questi fondi ancora non arrivano a destinazione. Una giunta se non lenta io direi una giunta ferma.